Buongiorno, oggi sono proprio soddisfatta, sono appena tornata dal mercato, adesso vi faccio vedere quello che ho acquistato. Sono veramente soddisfatta perché ho comprato di tutto e ho pagato 21 euro, ma ho comprato veramente tante cose, adesso vi faccio vedere. Allora, adesso vi faccio vedere quello che ho acquistato. Allora, un chilo per 21 euro, un chilo di limoni, due fascetti di rucola fresca, tre cetrioli, i funghi pioppini, quanti grammi sono? Fatemi vedere, 250 grammi di funghi pioppini, poi datterini, mezzo chilo di pomodori datterini, poi ho preso mezzo chilo di carciofini, questi qua, adesso vi faccio vedere, vedete? Questi qua, ho preso mezzo chilo di questi carciofini, magari per farli fritti o per farci un primo piatto, adesso vedo. Poi ho preso due vaschette di fragole, vedete? Tre, come si chiama questa verdura? Oddio, ah la scarola, non c'era quella riccia, volevo fare una scarola riccia e una liscia, ma non c'erano, ho preso tre scarole lisce, due euro, il prezzemolo mi è stato regalato, il basilico, aspettate, eccolo qua, il basilico, il basilico pure mi è stato regalato, poi ho preso due finocchi, ho preso un, diciamo, una confezione di carote, un chilo di peperoni e due fascetti di broccoli, ma mi è andata bene perché ho comprato tante cose, allora vi ripeto, la rucola, i limoni, cetrioli, funghi, peperoni, pomodori, broccoli, carote, finocchi, vabbè questo mi è stato regalato, le fragole, i carciofi, i carciofini e la scarola per tutto 21 euro.